Oggi corso con Luigi Non si può descrivere secondo me, troppo buone Grande Fiori di zucchina, Luigi non ha mai mangiato in vita sua la fiori di zucchina Com'è? Sei passato al team zucchina? Sì, sì, sì Spettacolo, troppo buone veramente Passato al team zucchina Fai un po' di frufru Frufru È cotta, è cotta Bye, ciao Questa è fatta da Luigi Prima volta che metto le mani nei miei panetti Ma che pizza? Grande Grazie a tutti